La propaganda secondo Bernays deve essere permanente ed universale, cosa vuol dire? Deve durare nel tempo, deve durare nel tempo, deve essere costante, bravissimo, è universale, vuol dire che deve essere rivolta a tutti, i linguaggi pubblicitari non possono essere complicati, se sono complicati non conquistano e quindi non raggiungono il loro obiettivo, la chiamano libertà, il nucleo è questa frase, chi pensa di poter darmi una spiegazione con parole proprie? Devo mangiare, devo fare soldi e basta, però ci avviciniamo. Un bravo consulente oggi sa che se vuole rivolgersi al pubblico della vostra età non conviene tanto usare Facebook, conviene usare Instagram, giusto? E il codice morale esiste sempre meno, perché se il Zen Out guida il lavoro, ovviamente anche la moralità passa in secondo piano. Grazie a tutti!